come fare in fretta soldi logicamente bisogna avere la mark k intanto si sparano come pazzi potrei anche provare a fare del loot lì ma voglio andare alla mark k vediamo un po cosa troviamo nella mark un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto Abbiamo trovato il document case Così vedete Adesso corriamo come dei pazzi E cerchiamo di non farci ammazzare Nel cavolo di botte che sono Potentissimi Andiamo alla breccia sulla stazione di servizio Facciamo così Nel cavolo di botte che sono Non si pagasse qua Questo non se ne è accorto E noi andiamo Se no dobbiamo prendere fiato Dobbiamo prendere fiato Abbiamo quasi preso Via Adesso possiamo andare Cazzo Scappa 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 Bravo Bravo Facciamo così 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 Allora Allora Io ho preso il document case Potevo anche non scappare Ma volendo Potevo fermarmi E iniziare a sparacchiare Di qua e di là Ma questo Ma questo era un video tutorial L'avete visto In Neanche dieci minuti Ci siamo portati a casa Un document case Ed ecco qua Perfetto Perfetto Grazie a tutti.